buongiorno e benvenuti sul bo live oggi inauguriamo una nuova serie dedicata al futuro urbano al futuro delle nostre città e quindi al nostro futuro nelle città nei luoghi da abitare da attraversare da progettare da trasformare lo facciamo cominciando con il professore edoardo narne è il primo protagonista di questo di questa serie che ci siamo abbiamo ideato insieme e ma non sarà l'unico perché con il professore eduardo narne architetto docente dell'università di padua ci saranno vari studiosi esperti professori del nostro ateneo tra questi michelangelo savino che sarà il prossimo protagonista protagonista del prossimo episodio con loro parleremo di città che si trasformano del nostro futuro all'interno di queste città e abbiamo deciso di chiamare questa serie visioni del futuro urbano proprio perché in questo modo possiamo parlare veramente di privato di pubblico di sacro cominciamo da qui da questa riflessione e chiediamo al professore eduardo narne che è qui con noi e che salutiamo buongiorno professore benvenuto buongiorno francesca e buongiorno a tutti di cominciare proprio la riflessione da qui con la pandemia partiamo dall'attualità quindi le varie dimensioni del vivere quotidiano si sono trasformate si stanno trasformando e lo vediamo tutti partiamo della dimensione privata dalla spazio domestico della casa cosa sta avvenendo come sta cambiando buongiorno sì grazie francesca per questo incipit noi da anni dentro il dipartimento lavoriamo su questi temi immaginandoci come possa essere la proiezione anche avvicinata di un cambiamento di stile di vita sul tema della casa abbiamo un decennale di riflessioni poi sono tutte state riportate da testi e libri abbiamo cercato sempre di valorizzare quella che la dimensione domestica cara ai nostri climi mediterranei ed è una riflessione importante che la pandemia poi ha come dire acutizzato e accelerato perché ci rendiamo conto oggi di quanto siano purtroppo non funzionali a un buon vivere gli appartamenti i contesti in cui ci troviamo a vivere appartamenti perché diciamo 70 80 per cento di noi vive negli appartamenti ma possiamo parlare anche sempre anche delle bifamiliari delle ville in tutto questo la pandemia ha messo in crisi questa modalità di progettazione che ha avuto fino all'altro ieri oggi si parla di luoghi sadubri si parla di spazi che devono essere arieggiati quanto più di situazioni in cui le i luoghi che venivano poco considerati quali i luoghi aperti delle terrazze delle logge delle corti dei pati mediterranei potrebbero essere gli spazi ideali per poter condividere con la propria famiglia nella buona stagione ma anche nella nelle intermedie le il buon vivere della buona famiglia ecco tutto questo sta venendo fuori in maniera molto importante e noi cercheremo di accelerare perché ci crediamo molto l'indirizzo della nuova progettualità la casa del futuro guarderà molto a questi spazi esterni e non più semplicemente alle questioni performanti di ingegneria legate ai pacchetti murari che oggi sembrano essere ancora la grande discussione da affrontare il futuro riguarderà gli spazi vuoti più che gli spazi dei materiali con cui è semplicemente realizzata la casa e tutto questo per raggiungere comfort alla casa del futuro ecco lasciatemi dire e questo ve l'ho anche anticipato purtroppo si continua a lavorare con schemi sorpassati come se le questioni fossero semplicemente di una difesa dal dal freddo eh degli spazi interni invece il tema forte in prospettiva sarà quello dell'arieggiamento del comfort della capacità di noi di di poter usufruire di quei luoghi che sono sempre stati un po' bistrattati dai regolamenti edilizi e che invece devono diventare centrali nella buona progettazione della casa del futuro su questo credo che faremo grosse riflessioni nei prossimi anni a venire ecco professore esaurito per così dire perché in realtà ci sarebbe veramente molto altro da raccontare se molte cose su cui riflettere ed è ideale da progettare è sicuramente l'interlocutore ideale per intravolare un certo tipo di riflessione discorso ci spostiamo però adesso sul spazio pubblico chiamiamolo lo spazio del lavoro che in realtà forse è quello che più evidentemente in questo periodo sta cambiando perché insomma tutti noi lavoratori siamo stati coinvolti in questo cambiamento in questa trasformazione si parla di lavoro agile si parla di smart working ma probabilmente siamo solo all'inizio che cosa ci dobbiamo aspettare da questo punto di vista come cambieranno i luoghi del lavoro ancora questa dimensione del lavoro ha avuto anche per queste questioni della pandemia una forzata accelerazione sulle sulla ricerca di di modalità nuove o forse antiche quello per cui la dimensione pubblica e privata convivano allo stesso tempo nel luogo in cui viviamo abbiamo quante volte abbiamo visto persone costrette a lavorare nelle singole camere in cui anche dormono perché questa pandemia ci ha costretto a riportarci dentro questa dimensione molto chiusa ma questo non può funzionare questo è stato un palliativo del momento a cui comunque bisogna trovare delle risposte molto più responsabili perché andiamo anche in questi casi a creare delle problematiche psicologiche molto molto evidenti e c'era un percorso che stava venendo molto fuori quando si parlava di smart working prima della pandemia di ribaltare i termini della questione già 50 anni fa alcuni modelli erano andati in crisi la zonizzazione prevista dall'urbanistica del post square aveva creato delle chiare divisioni nella formulazione della città si parlava della città dormitorio della città del lavoro della città dello sport del benessere la città della salute e tutto questo sempre legato a schemi diciamo positivisti per cui l'uomo era visto come una macchina a che si doveva spostare tra i vari quartieri questo modello è andato in crisi molto presto negli anni 70 80 e però è rimasta sempre una certa fissità nell'immaginare gli spazi pubblici come predisposti a essere collocati dentro degli edifici monofunzionali questo devo ad una lettura che già avevamo fatto una decina di anni fa con alcuni colleghi andava però a scontrarsi contro questioni di mercato molto importanti e oggi ci sembra invece venire forte questa richiesta di un'attività smart working senza perdere la dimensione del sociale senza perdere la possibilità di incontrarsi con le persone anche a un metro e mezzo di distanza con le dovute cautele ma che permetta di scindere la dimensione privata dalla dimensione pubblica e quindi se da un certo punto di vista l'edificio monofunzionale solo per uffici non può funzionare più non ha più appeal molto più interessante sembrano essere certe ibridazioni di funzioni per cui la dimensione del lavorativa può essere sviluppato in questi edifici per alcuni piani quelli più a ridosso della strada quelli più a ridosso del flusso delle persone e permettere attraverso una flessibilità interna di questi edifici monofunzionali a essere rivisti come edifici per una residenzialità temporanea per permettere alle giovani coppie di vivere una una dimensione di co housing co working questi termini che hanno cambiato le prospettive delle città del nord europa e che oggi anche nella europa mediterranea potranno essere stimolo per un ribaltamento del della progettualità per dirla in breve la condivisione delle funzioni deve trovare spazio nei contenitori che già ci sono ma che devono essere distribuiti in maniera nuova e differente ecco professore tra le proposte di approfondimento privato pubblico si arriva una terza ed è quella che forse a me incuriosisce di più perché non saprei neanche da che parte cominciare una riflessione su sul sacro non ci pensiamo abbastanza ecco pensiamo sempre negli spazi della casa gli spazi del lavoro però gli spazi del sacro in effetti hanno subito trasformazioni stanno subendo importanti trasformazioni rimettendo in discussione la relazione individuale collettiva con il trascendente in questo senso mi piacerebbe chiudere la nostra breve conversazione con una riflessione sul sacro una riflessione che devo dire mi mi appassiona molto una riflessione che va oltre la pandemia una riflessione che riguarda le città come le stiamo vivendo e come cambieranno ci sono alcuni dati certi le città accoglieranno tra il 70 all 80 per cento della popolazione tra il 2050 e il 2060 quindi non si parlerà più di città medie ma città grandi soprattutto in oriente grandissimi agglomerati dove devono per forza trovare spazio i vari credi e anche l'europa sentirà forte questa necessità di portare serenità alla popolazione con tutte queste etnie che si rivolgeranno alle nostre città anche italiane io su questo sto riflettendo da anni e facendo molti viaggi in oriente devo dire che ho trovato nel modello delle città indiane una giusta risposta una capacità di proporre una dimensione ecumenica tra le varie tra i vari credi permettendo l'induismo al libera espressione e la nazione indiana libera espressione anche per la strada delle varie religiosità e questo perché non ricordi ce lo ricordiamo bene fino a pochi anni fa le questioni del terrorismo erano legate moltissimo a questa intolleranza creata da da queste forti tensioni tra le culture anche nelle nostre città italiane soprattutto nelle periferie vive ormai il 30 30 per cento di extra comunitari a questi bisogna dare delle risposte non si può solo inserire la loro necessità archetipa di ragionare con il trascendente e rispondere a delle questioni diciamo primordiali soluzionando e distribuendo su contenitori in disuso la possibilità loro di manifestare i loro rituali io credo che le singole strade le singole piazze possano parlare di queste dimensioni e aiuteranno molto gli spazi aperti affinché tutti si possano sentire accolti dalla nuova urbanistica dico questo perché è un tema poco affrontato perché nella pandemia stiamo ragionando su altre tematiche ma è un tema che credo sarà centrale per far sì che tra i prossimi venti trent'anni non ci siano grossi conflitti l'urbanistica e l'architettura possono aiutare a far condividere le varie comunità di varie nazioni dentro città che saranno condensatori di credi solo se si riuscirà a dare risposte vere a e responsabili a necessità primarie e sono anche necessità psicologiche non solo necessità tecniche e su questo devo dire il l'omaggio mi piacerebbe sempre farlo a un grande pensatore indiano si chiama chias correa che ha scritto un saggio negli anni 80 che si intitolava la città il sa il privato il pubblico il sacro a cui poi abbiamo dedicato questa prima lezione sulla città del futuro professore prima di salutarla la prendo così le chiedo di anticiparci gli argomenti che tratteremo io li conosco però cosa parleremo ancora durante queste nostre conversazioni ci dia dia al pubblico insomma chi ci sta ascoltando qualche anticipazione per capire dove stiamo andando cosa di cosa ci occuperemo e quali saranno gli argomenti di discussione sì abbiamo invitato alcuni ospiti non facciamo i nomi perché è meglio così creiamo un po di suspense ma chiaramente ci piace dare uno sguardo aperto con una proiezione non solo prossima alla chiusura della pandemia ce la vogliamo tutti ma immaginandoci cosa sarà la città nel 2050 ecco questo l'orizzonte temporale e per questo abbiamo ragionato sulla sull'urbanistica a una scala territoriale abbiamo cercato di coinvolgere persone che ci parlino della partecipazione delle comunità nel processo di formazione di queste città del del futuro abbiamo invitato esperti di botanica per farci capire quanto importante sarà la componente del verde nella formulazione di queste città e degli spazi aperti ma anche delle singole abitazioni quanto il verde può dar beneficio agli spazi aperti agli spazi in cui viviamo pensiamo che sia importante anche ragionare sulla dimensione dei borghi delle ciò che rende l'italia così speciale quindi le piccole realtà che ad oggi stanno hanno sofferto negli ultimi periodo un grande spopolamento ma che possono essere una risposta importante anche in tutta italiana o europea a soluzioni per per la città del futuro quindi mescoliamo le varie questioni però ci diamo come obiettivo non le risposte che dobbiamo affrontare subito dopo la pandemia ma immaginare a una scala più dilatata come dicevo la città prossima e soprattutto la città europea